Mater B è una bioplastica, intanto ci tengo a dire che è un prodotto che nasce dalla ricerca italiana, quindi è un prodotto tutto italiano e di questo io sono molto orgoglioso. È una bioplastica che utilizza materie prime di origine agricola e che ha una caratteristica, cioè quella di essere da una parte usabile come i prodotti plastici tradizionali. Posso fare delle sporte, posso fare dei sacchetti per la raccolta differenziata, dei piatti, delle posate, dei bicchieri, quindi tutti i manufatti che si possono fare con le plastiche tradizionali ma con una caratteristica diversa, cioè quella di potersi comportare nel fine vita come i rifiuti organici, come gli scarti di cucina. In questo modo io riesco a trasformare questa bioplastica in anidride carbonica, acqua e compost, chiudendo in maniera corretta il ciclo del carbonio, quindi dalla plastica una fertilizzante utile per l'agricoltura.